Il webinar organizzato da IAB Friuli Venezia Giulia, l'argomento di questo webinar sarà come vedete dal titolo la vagliatura delle sementi e avevamo pensato di organizzare una qualcosa rivolto essenzialmente agli agricoltori ma non solo, agricoltori bio che molte volte hanno il problema di trovare delle strade alternative per il controllo delle infestanti ad esempio e quindi siamo partiti dalla consociazione che può essere uno strumento molto utile specialmente per le aziende bio che però pone il problema poi di una raccolta contemporanea di più prodotti che hanno necessità di essere separati e quindi il tema di questa serata, di questo webinar è la vagliatura delle sementi. Non parleremo solo di vagliatura ma cominceremo a parlare di consociazioni di colture con Federico Leoni della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che sarà il relatore del primo intervento e poi avremo un agricoltore marchigiano, Gilberto Croceri, che ci racconterà la sua esperienza di agricoltore bio con le consociazioni e con la successiva pulizia e vagliatura delle sementi per arrivare a offrire, a vendere un prodotto separato ad esempio il cece con il cece, la lenticchia con la lenticchia eccetera. Bene, darei l'avvio quindi a questo webinar con la prima presentazione di Federico Leoni avremo due relazioni una di seguito all'altra e poi direi l'ultima mezz'ora la dedichiamo a una discussione tra di noi. Potete interagire tramite la chat e fare domande che alla fine delle presentazioni faremo ai relatori. Bene, grazie Federico, comincia tu con la presentazione. Buonasera, prima di condividere la presentazione volevo ringraziarvi per l'invito, ringraziare IAB, con Gilberto ci conosciamo perché appunto come vedrete abbiamo collaborato a lungo nell'ambito di un progetto europeo, il Dublin Prize, un progetto che si è occupato di trovare metodi alternativi per il controllo degli infestanti e noi abbiamo utilizzato proprio la consociazione come metodo alternativo di controllo. Un attimo di pazienza, condivido lo schermo con la presentazione. Ecco qua, allora se mi potete, io non vi vedo, quindi se mi date un feedback vocale se vedete la presentazione posso cominciare. Sì, sì, io la vedo. Perfetto, grazie. Sono Federico Leoni, sono un assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna, faccio parte del gruppo di agroecologia guidato dalla professoressa Anna Camilla Monen e Paolo Barberi e abbiamo studiato uno dei nostri rami di ricerca principali è quello della diversificazione culturale negli agroecosistemi e quindi tutto ciò che riguarda le consociazioni, l'utilizzo di pacciamature vive, diciamo, è il nostro oggetto di studio. Partiamo proprio dalla base e dalla definizione chiaramente forse tutti quanti voi sapete di cosa sono, cos'è una consociazione, cosa vuol dire consociazione e la definizione più semplice che ho trovato è quella che si definisce consociazione la coltivazione simultanea di due o più culture nello stesso campo per l'intero o parziale ciclo di crescita delle culture. Ovviamente la tecnica della consociazione può essere applicata in tantissimi sistemi agricoli, quindi dai cereali alle specie orticole, come potete vedere dalle foto sulla sinistra e noi scegliamo di adottare una pratica di consociazione perché vogliamo ottenere dei vantaggi. Questi vantaggi sono di più, diciamo, anche spiegati scientificamente dalla letteratura scientifica, sono sicuramente il controllo degli infestanti perché, come vedete, è un sistema di consociazione e noi non abbiamo, non lasciamo il terreno perlomeno in avanzato, nei stadi, insomma, più avanzati al ciclo culturale, non lasciamo mai il terreno vuoto. Abbiamo sempre una copertura vegetale di piante a noi favorevoli, come in questo caso qua, di leguminose, che permettono di controllare in modo efficace le infestanti, creano una sorta di barriera fisica dove la luce non penetra e, come sappiamo, molto spesso le infestanti, soprattutto quelle a ciclo annuale, hanno bisogno di certe condizioni per la germinazione, certe condizioni che non sono create, che non vengono appunto favorite dalla presenza di una leguminosa appunto come pacciame. Quindi il controllo infestante è sicuramente uno dei vantaggi principali di questa pratica agronomica. Secondo, il migliore utilizzo dello spazio, noi tramite l'utilizzo di più colture, con, importante sottolineare, con delle caratteristiche morfologiche complementari, possiamo avere una situazione in cui non vi è competizione, ma vi è anzi un utilizzo maggiore dello spazio. Un esempio tra tutti è il trifoglio sotterraneo in consociazione, ad esempio, con il frumento. Abbiamo delle caratteristiche morfologiche tra queste due culture che sono assolutamente diverse ma complementari. Uno è strisciante, ha bisogno di poca luce e il frumento invece, come sappiamo, ha un portamento eretto e invece va in cerca di luce. Dopodiché abbiamo anche un miglioramento della fertilità chimica e fisica del suolo. In questo caso qua noi ci stiamo concentrando sull'utilizzo di leguminose che, come tutti quanti noi sappiamo, grazie alla simbiosi con i batteri azotofissatori, riescono a prendere, a fissare l'azoto atmosferico, quindi una risorsa pressoché illimitata, e a trasformarla tramite un processo chimico in azoto invece utilizzabile dalle coltivazioni. Quindi tramite l'utilizzo di leguminose possiamo prendere l'azoto atmosferico e veicolarlo verso piante che non hanno questa capacità di simbiosi con i batteri azotofissatori, ma come ad esempio i cereali. Però diciamo che i vantaggi legati alla fertilità del suolo non si fermano semplicemente a questo fatto della simbiosi con batteri, diciamo, positivi, ma abbiamo visto che ad esempio la copresenza di leguminose con cereali, ma in generale la copresenza di più specie insieme, creano tutto quanto un microambiente vicino all'apparato radicale, nella rizosfera, in cui vi è ad esempio un abbassamento del pH, quindi anche una maggiore disponibilità di fosforo, che è un elemento ad esempio molto limitante, che può essere un elemento limitante ai nostri terreni, in particolare se ci riferiamo a sistemi biologici. Poi abbiamo un supporto della biodiversità grazie alle consociazioni, che è importantissimo, ora al di là di tutto quanto ciò che accade a livello radicale, quindi di biodiversità di microrganismi, abbiamo sicuramente anche tutta quanta una biodiversità di insetti, insomma, che ha un effetto positivo e che aiutano poi nel controllo anche eventualmente di patogeni, ma anche in modo indiretto anche nel controllo degli infestanti. C'è uno studio recentemente pubblicato, ad esempio, che ha visto come in presenza di living mulch la presenza di insetti che predano semi di infestanti aumenta in modo significativo rispetto a un sistema più semplificato. Poi abbiamo anche una stabilità di produzione, perché se è vero che spesso, ma non sempre, di conseguenza una consociazione, abbiamo un abbassamento di produzione almeno di una delle due componenti della consociazione, in realtà se noi sommiamo la produzione di una componente più la seconda, abbiamo sempre una situazione più stabile per quanto riguarda le produzioni, perché magari abbiamo un anno in cui abbiamo delle condizioni ambientali che favoriscono un tipo, una cultura rispetto all'altra e viceversa, quindi abbiamo il famoso effetto insurance, un effetto, diciamo, assicurazione. I pericoli. Se la scelta delle culture da mettere in consociazione non è fatta in modo adeguato, si possono presentare dei pericoli di competizione. Ad esempio, se noi mettiamo, nel caso, se noi mettiamo esempio in consociazione, un trifoglio con una cultura invece poco competitiva, come può essere esempio la barbabietola da zucchero, in quel caso hanno osservato chiaramente che questo tipo di sistema può portare a un effetto di competizione. Sicuramente poi abbiamo più specie in campo con necessità differenti e quindi sicuramente con un sistema di consociazione andiamo ad aumentare la complessità del sistema e quindi anche la gestione del sistema stesso diventa più difficile. Si richiedono talvolta a gran voce dei macchinari adatti per questi sistemi. Sembra impossibile, ma una seminatrice con, ad esempio, due tramogge per poter mettere due tipi di culture diverse sono estremamente difficili da trovare sul mercato. Poi abbiamo chiaramente il punto principale che è un problema circoscritto, diciamo, per quanto riguarda la coltivazione di cereali con, ad esempio, leguminose da granella, che è quello della separazione delle due granelle in posta raccolta. Perché mentre i benefici agronomici, diciamo, di un sistema di consociazione sono appurati, cioè in certi casi veramente è una tecnica che permette di ottenere risultati molto interessanti, la separazione in posta raccolta spesso è un ostacolo per l'utilizzo di queste pratiche da parte degli agricoltori. Qua il miglioramento genetico e qua la scelta sempre delle specie, ma anche delle cultiva diverse, gioca un ruolo fondamentale. In questa presentazione andrò a toccare tre punti importanti per un sistema di consociazione. Ci focalizzeremo su una consociazione di cereali con leguminose. Andremo a capire quali specie si possono utilizzare di cereali leguminose per un sistema di consociazione, quando si possono seminare e come si possono seminare. Quindi tutti aspetti pratici per l'applicazione, per l'utilizzo delle consociazioni a livello aziendale. Quali specie si possono utilizzare? Allora, qui chiaramente la fantasia non ha ostacoli. L'importante è che si utilizzino delle specie, cioè che si utilizzino le consociazioni per ottenere un risultato e per superare un problema. Ovviamente gli agricoltori possono scegliere diversi tipi di leguminose a seconda anche del proprio mercato di riferimento e anche se vi è o no la presenza di animali. Manteniamo fissa la presenza di un cereale, che nel nostro caso, per semplificare, identifichiamo come il frumento, per frumento duro o frumento tenero. I tipi di leguminose che possiamo utilizzare in consociazione con il frumento possono essere, ad esempio, leguminose da foraggio. Leguminose da foraggio che vengono quindi seminate con il frumento. Una volta che il frumento poi ha raggiunto lo stadio di maturazione viene raccolto, mentre invece in campo possono rimanere queste leguminose per la produzione di foraggio. Il classico esempio è l'erba medica, ma in presenza di un'adeguata dotazione idrica, anche altre leguminose con un apparato radicale più superficiale, come ad esempio il trifoglio bianco, possono essere utilizzati. Quindi in questo caso noi abbiamo, dopo la raccolta del frumento, una presenza della medica che viene a instaurarsi nel sistema agricolo un anno prima rispetto alla normale rotazione culturale e queste leguminose in questo caso le possiamo utilizzare per la produzione di foraggio. Un'altra opzione è l'utilizzo di leguminose da granella. In questo caso il ciclo è più corto perché ad esempio le leguminose da granella possono essere il cece, la cicerchia oppure la lenticchia vengono raccolte insieme al frumento e qui poi nasce il problema, il punto, il fatto anche di dover trattare questo raccolto in modo appropriato, mi riferisco alla separazione delle due granelle. Oppure possiamo utilizzare anche delle leguminose che possono essere definite cover crop oppure mi piace definirle come service crop, cioè culture leguminose che sono utilizzate per fornire un servizio, per fornire un servizio ecosistemico. Definite anche culture sussidiari, ci sono tanti termini per definirle. Sono quelle leguminose che noi possiamo seminare insieme al frumento, dopo la raccolta del frumento le possiamo mantenere in campo, ma a quel punto poi la loro funzione è quella di accumulare biomassa, biomassa che poi verrà successivamente prima della semina della coltivazione successiva. Queste leguminose possono essere integrate, possono essere insomma trinciate, integrate all'interno del suolo tramite un effetto di green manure, diciamo di fertilizzazione legata appunto all'incorporazione di biomassa di leguminose nel terreno e poi possiamo seminare la cultura in successione, cultura in successione che trarrà sicuramente vantaggio dalla quantità di azoto contenuto nella biomassa del cover crop precedente e potrà anche trarre vantaggio in termini di competizione delle infestanti perché come potete vedere anche da questo piccolo disegno, a eccezione delle leguminose da granella, se utilizzo leguminose da foraggio, se utilizzo delle cover crop, la cosa che subito si nota è che io mantengo il suolo sempre coperto. Questo sicuramente limita la germinazione di nuovi infestanti, diciamo che rende più difficile anche la dispersione del seme da parte di quelle infestanti che sono riuscite di andare a fiore, a seme e poi vi è anche un effetto nel caso dell'incorporazione del leguminose nel terreno, vi è anche un effetto così definito allelopatico, cioè abbiamo queste leguminose qui, ad esempio l'erba medica, questo effetto qua è stato abbondantemente studiato, che hanno delle sostanze, fenoli oppure anche delle sudati radicali, flavonoidi, che riescono in qualche modo a inibire o quantomeno rallentare la germinazione degli infestanti ed ecco che le culture in successione possono ottenere vantaggio da questo sistema. Ovviamente ci deve essere una selezione di leguminose adatte, se voi guardate ad esempio la foto in basso a destra, questa è una sperimentazione che abbiamo condotto al centro di ricerche Enrico Avanzi a San Piero Agrado, vicino a Pisa, ecco come vedete questo è il sorgo e abbiamo studiato un sistema simile a quello che vedete come insegnato come cover crop o service crop, cioè abbiamo valutato l'effetto residuo di diverse leguminose seminate in consociazione con il frumento. Come vedete, anche se non sono definite dal punto di vista della parcella, vedete dei punti dove abbiamo un sorgo di una tonalità di verde più chiaro e altri che un sorgo con una tonalità di verde più scuro e anche un'altezza della chioma più scuro, quindi a parità di leguminose ci deve essere un lavoro di selezione per capire quali sono poi le leguminose più adatte che danno un maggiore contributo poi alla cultura successiva. E questo è il punto che volevo approfondire con questa slide, cioè dell'importanza di scegliere leguminose adatte alla consociazione. L'essere o no adatta alla consociazione è determinato anche dal fatto di qual è l'obiettivo della nostra consociazione, cioè se noi vogliamo mettere in consociazione con il frumento una leguminosa per produrre foraggio o una leguminosa per dare azoto alla cultura successiva, a quel punto il mio obiettivo deve essere quello di avere una leguminosa bassa, prostrata che non mi dia fastidio alla raccolta del frumento. Guardiamo ad esempio questi due esempi di leguminose che abbiamo studiato nel corso delle nostre attività di ricerca, da una parte il trifoglio resupinato o trifoglio persiano, a destra invece il trifoglio sotterraneo, non so se vedete l'indicchio, la friccina che sto muovendo. Beh, abbiamo due situazioni completamente diverse, il trifoglio sotterraneo è basso, non darà fastidio alla raccolta del grano, mentre invece il trifoglio resupinato ha una biomassa, come vedete i fiori e il trifoglio resupinato, pur essendo estremamente belli e profumati, ma svettano e hanno la stessa altezza delle spighe del grano e questo darà sicuramente un problema alla raccolta. Perché? Perché chiaramente il trifoglio resupinato è ancora verde, questo aumenterà l'umidità della granella poi che si andrà a raccogliere, creando numerosi problemi dal punto di vista anche della conservazione in post-raccolta. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro al Centro di ricerche agroambientale ricavanzi, di selezione di quali sono secondo noi le leguminose da foraggio oppure da utilizzare come service crop più adatte per la consociazione con i cereali. E qua vedete una lista di quelle che abbiamo selezionato, ad esempio medica gossativa, cioè l'erba medica, il trifoglio bianco, la sulla e il trifoglio sotterraneo adatte per questo sistema perché hanno queste caratteristiche morfologiche che noi cerchiamo. Mentre invece per quanto riguarda specie poco adatte, chiaramente resupinato, trifoglio persiano, ma ve ne sono tante altre che invece non hanno soddisfatto queste necessità. La cosa ad esempio è completamente diversa se noi consideriamo leguminose da granella. A questo punto invece noi vogliamo che siano alte quanto il grano, anzi nel caso di una consociazione tra frumento e lenticchia, in questo caso noi vogliamo assolutamente che la lenticchia si arrampichi sul frumento e che raggiunga la stessa altezza. Perché? Perché andiamo a risolvere con la consociazione un problema fondamentale per la coltivazione della lenticchia, che è quello di allettare. Un allettamento che soprattutto in terreni collinari rappresenta un ostacolo veramente serio che determina la mancata coltivazione di lenticchia in questi contesti, pur essendo una cultura con un prezzo del mercato estremamente interessante. E noi in questo caso utilizziamo la consociazione con il frumento per sfruttare i culmi del frumento come sostegno meccanico su cui la lenticchia può arrampicarsi e quindi superare il problema dell'allettamento della lenticchia. Superiamo anche il problema degli infestanti. È veramente incredibile l'effetto di contenimento degli infestanti che si può ottenere quando noi coltiviamo la lenticchia in consociazione rispetto a la lenticchia coltivata da sola. E anche in termini di produzione, sono due produzione, mi riferisco a lenticchia, completamente paragonabili in una situazione che abbiamo avuto noi all'interno del centro di ricerca. Perché se da una parte in consociazione della lenticchia proprodurre qualcosa di meno, dall'altra le perdite dovute all'allettamento, le perdite quindi secondarie, dovute anche all'inefficienza di raccolta con la metitrebbia, compensano il gap di produzione che si può ottenere in un sistema di consociazione. L'altro punto è quando seminare. Quando seminare abbiamo due opzioni, cioè parlare delle consociazioni è veramente complicato perché ci sono tantissime sfumature, però da una parte è anche un bene perché vuol dire che è una tecnica che si può adattare a molti contesti aziendali. Per quanto riguarda il quando seminare abbiamo quindi due alternative, o una semina contemporanea di una leguminosa con il cereale, quindi non so, da noi ad esempio ottobre, novembre, mettiamo allo stesso momento la leguminosa con il cereale. In questo caso si chiama semina contemporanea, quindi in inglese contemporary intercropping. Se invece abbiamo qualche, per qualche ragione vogliamo posticipare la semina della seconda, della cultura numero due, nel nostro caso può essere la leguminosa, possiamo fare ricorso a un sistema chiamato, a una semina chiamata staffetta, letteralmente tradotta dall'inglese perché in questo caso ci riferiamo a relay intercropping, ma è una tecnica che comunque i nostri nonni e genitori conoscono perché è una tecnica che da noi è definita come, è tutta attualmente definita come bulatura. Perché scegliere uno, perché scegliere l'altro? Vediamo di analizzare diciamo gli aspetti positivi e negativi di un tipo di semina rispetto all'altro. Per la semina contemporanea sicuramente noi abbiamo un cantiere, abbiamo un cantiere di lavoro semplificato perché io con un solo passaggio riesco a seminare entrambe le culture. Dall'altro se ci fossero, se ci sono ad esempio delle stagioni calde, quindi con dei climi, con condizioni quindi di temperatura favorevoli per la leguminosa, potrei avere un'eccessiva vigoria della leguminosa che va a competere eccessivamente con il frumento. Quindi avrei un sistema diciamo di pericolo perché si potrebbe presentare il problema della competizione. Dall'altro però una semina contemporanea anche può favorire un traslocamento dell'azoto, come dicevo, dalla leguminosa al frumento. Per ovviare a problemi di competizione da parte della leguminosa nei confronti del cereale posso in qualche modo posticipare la semina della leguminosa. In questo modo io ho una trassemina che avviene quando il frumento in fase di accestimento e quindi ho il cereale che agisce da freno allo sviluppo della leguminosa e ho una situazione più equilibrata. Questo tipo di tecnica poi la si può adottare, non è il caso della Toscana dove sono stati eseguiti questi esperimenti e non è il caso degli ultimi anni che, visto che prima ne parlavamo, che sono anni particolarmente caldi, però se avessimo la necessità di trasseminare in un cereale una cultura che ha delle esigenze termiche maggiori, come può essere ad esempio alcune leguminose, a quel punto siamo forzati ad utilizzare una semina diciamo posticipata, quindi ad effettuare la famosa bulatura. Comunque sia in caso di semina contemporanea che in caso di bulatura poi possiamo utilizzare le stesse leguminose di cui abbiamo parlato prima e per gli stessi scopi. Come seminare? Come seminare? Questo è un altro punto molto importante. La tecnica di semina determina una diversa disposizione spaziale delle due componenti di un sistema di consociazione. Guardiamo ad esempio le immagini in basso a sinistra, le opzioni sono a patto che si semini il cereale a file, le leguminose poi possono essere seminate a file o a spaglio. A file quindi abbiamo una fila alternata, una fila di frumento, una fila di leguminosa, una fila di frumento, una fila di leguminosa. In questo caso l'idea è quello di massimizzare la distanza tra le due culture e quindi quella di limitare il più possibile la competizione per delle risorse limitanti. Con la semina a spaglio invece io ho una distribuzione più o meno casuale delle leguminose in mezzo al frumento. Chiaramente questi due metodi hanno aspetti positivi e aspetti negativi. Quindi analizziamo il primo caso di semina a file del cereale e semina a spaglio delle leguminose. Chiaramente si tratta di un metodo di semina economico e rapido perché in pratica come funziona? Abbiamo il frumento in accestimento, quindi un frumento ad esempio, nel caso della consociazione tipo abulatura, un frumento quindi molto plastico. Possiamo distribuire il seme tramite uno spandiconcime, quindi un attrezzo centrifugo e poi passare con il pece striliatore per interrare i semi. Quindi un metodo molto economico, molto diciamo veloce, con una doppia funzione perché io abbino la funzione di interrare i semi a quella del controllo meccanico degli infestanti e poi ho bisogno di mezzi agricoli anche a bassa tecnologia. Tuttavia però con questo sistema qua a spaglio io ho una distribuzione dei semi casuale che a volte può essere anche disuniforme perché lo spandiconcime in battuta può accumulare più semi in certe bande rispetto che ad altri. Ho un'alta esposizione dei semi a condizioni sfavorevoli per la germinazione, ad esempio i nostri studi che abbiamo fatto sempre al centro di ricerche abbiamo visto che se non piove dopo la semina, è accaduto questo un paio di anni fa, la germinazione, la capacità, la germinazione delle leguminose può essere in qualche modo compromessa. Quindi il rischio di avere una minore emergenza delle leguminose porta a un aumento consigliato di dose di semina di circa del 20 al 50%, quindi portando dei costi aggiuntivi per l'agricoltore. Semina a file, semina a file è praticamente quasi obbligata per nel caso si vogliono utilizzare delle leguminose da granella in consociazione con i cereali, abbiamo sicuramente una migliore emergenza delle leguminose anche perché il contatto del suolo col seme è assolutamente garantito, una minore esposizione a predazione e a condizioni favorevoli per la germinazione, sicuramente un metodo di semina lento e un metodo di semina a righe che richiede una condizione di suolo favorevole, cosa che nel caso della bulatura non sempre è possibile perché la bulatura si effettua a fine febbraio, quindi il terreno può essere eccessivamente umido per questo tipo di semina e chiaramente determina anche la necessità di dover aumentare lo spazio di interfila del cereale, diciamo che da 18 centimetri in su e questo insomma è un elemento a tenere in considerazione. Ora insomma abbiamo fatto un po' i conti, anche il sistema di consociazione abbiamo buttato giù insomma un conto economico molto molto rapido ecco. Questa slide qua è per far ragionare sul fatto che il vantaggio economico che può venire dall'utilizzo delle leguminose non va analizzato semplicemente fermandosi al ciclo del frumento, ma va in qualche modo valutato a livello di almeno di sequenza di culture. Andiamo a vedere un sistema convenzionale, quindi con l'utilizzo di erbicidi, di fertilizzazioni, è un sistema a basso input, organic, biologico, con l'utilizzo delle intercropping o comunque anche delle intercropping. Se noi ipotizziamo in un sistema convenzionale una produzione di 6 tonnellate per ettaro per il frumento e una produzione di foraggio, di sorgo da foraggio successivo di 23 tonnellate di biomassa fresca per ettaro, vediamo che il conto parziale per quanto riguarda il frumento, quindi i ricavi meno spese sono circa 290 euro per ettaro, lo stesso sistema, però portato a un sistema allo input, ma con l'utilizzo della consociazione, vede un margine, diciamo, di costi meno ricavi minore di 204 euro. Perché? Perché insiste il prezzo dei semi, chiaramente, e delle operazioni culturali per effettuare la consociazione. Quindi se noi ci fermiamo semplicemente a valutare gli effetti della consociazione soltanto su una cultura, beh a quel punto vediamo che l'utilizzo della tecnica della consociazione non è completamente giustificato, anche perché la produzione è magari più bassa rispetto a un sistema convenzionale e i prezzi possono essere addirittura più più alti rispetto che al sistema convenzionale, dovuto appunto all'utilizzo al seme, comunque ad entrare in campo per fare la trasemia. Se noi andiamo a vedere invece gli effetti a livello di rotazione, diciamo, delle culture, vediamo a vedere gli effetti positivi che sono che sono stati individuati sulla cultura successiva, che nel nostro caso è il sorgo da foraggio, vediamo che in questo caso i costi di gestione si abbassano notevolmente perché io non devo più fertilizzare, non devo più usare erbicidi, non devo più usare, devo usare meno lavorazioni nel terreno. E vediamo come il conto parziale per quanto riguarda il frumento e per quanto riguarda il sorgo in successione, in questo caso invece sia più alto per un sistema a basso input o biologico ma con l'utilizzo delle consociazioni, mentre invece è più basso, seppur positivo, per un sistema diciamo convenzionale, pur producendo meno, leggermente meno. E questi qua sono dati assolutamente veritieri ottenuti sperimentalmente. Quindi alla fine dei conti se io metto insieme il margine oppure la differenza tra costi e ricavi del frumento più quelli del sorgo. Quindi facendo un conto economico complessivo vedo che il margine per il sistema convenzionale è di 428 euro, per il sistema invece a basso input è biologico 483. Quindi assolutamente un livello economico paragonabile, ma nel secondo caso non ho usato fertilizzanti, non ho usato erbicidi, ho usato assolutamente meno lavorazioni lasciando il terreno sempre coperto e mai esposto a problemi di erosione oppure di licificazione di nutrienti. Quindi con consistenti vantaggi dal punto di vista anche ambientale. Bene, allora ci siamo chiusi all'interno della nostra azienda sperimentale, abbiamo fatto tutte quante le nostre osservazioni nelle nostre piccole parcelline. È sufficiente questo per dire che questa tecnica della consociazione funziona e in parte sì, in parte anche no. Sicuramente noi per quanto riguarda la prima fase e quindi la prima fase di studio che prevede quindi uno studio a livello di parcelle, abbiamo studiato tante, abbiamo ottenuto tanti risultati dal punto di vista anche dell'interazione, quindi di quanti vantaggi che teoricamente ci possono essere, ma poi nella pratica gli agricoltori perché non utilizzano o perché le utilizzano in modo ridotto queste pratiche? Prima di arrivare l'implementazione a livello aziendale, quindi è importante seguire questo schema che noi abbiamo proposto per una pubblicazione scientifica che è attualmente sotto revisione, cioè utilizzando un approccio partecipativo basato su tre stadi, su tre stage. La prima fase è quello quindi siamo nelle nostre parcelle, vediamo che la cosa funziona, abbiamo la possibilità, abbiamo la fortuna di poter provare tantissimi tipi di leguminose, come esempio nel nostro caso, ne abbiamo trovate alcune che sono particolarmente promettenti, per il trasferimento tecnologico portiamole, testiamole a un livello intermedio, quindi abbiamo preso le nostre leguminose, inclusa lenticchia, e le abbiamo trovate poi a livello di campo, sempre però all'interno dell'azienda sperimentale, quindi come vedete siamo nello stage 2, abbiamo fatto un campo intero con frumento e lenticchia in consociazione, abbiamo seminato il frumento con lenticchia con delle seminatrici agendali, della Maschio Gaspardo, abbiamo raccolto il frumento con lenticchia assieme con una sola passata, con una metitrebbia, quindi commerciale, abbiamo visto comunque che alcune di queste pratiche che abbiamo provato in parcella e applicate poi su scala più grande, possono avere quindi un futuro, perché portano tutta una serie di vantaggi agronomici, hanno confermato gli stessi vantaggi agronomici che abbiamo visto in quegli studi a livello di parcelle, quindi siamo pronti per poter chiedere alle aziende se sono interessate a voler fare un po' di pratica con queste pratiche della consociazione. Ed è un po' quello che è successo anche con l'esperienza di Gilberto, ora lui chiaramente, anzi, ci ha insegnato, e sono qui le cose che ci ha insegnato rispetto a quelle che potevamo dare per quanto riguarda le consociazioni, perché lui è veramente un guru e le pratica tanti anni. Però abbiamo seguito un percorso di co-creazione di esperimenti in modo da poter creare una sorta di scambio. Se da una parte lui, magari, Gilberto, chiede come mai certi infestanti si sviluppano in un sistema di consociazione rispetto ad altre, che significato hanno questi infestanti, che informazioni posso dare, ad esempio, certi infestanti all'interno di un sistema di consociazione rispetto ad altri, noi magari abbiamo provato a dare delle risposte e lui da parte sua chiaramente ci ha dato importantissimi feedback su questa pratica della consociazione. Quindi, da questo momento in poi, a questa fase di trasferimento tecnologico che è nata questa collaborazione con l'azienda agricola La Viola, nelle Marche, nel bellissimo contesto delle colline marchigiane, di Torre San Patrizio, dove abbiamo poi, ci siamo focalizzati sulla consociazione del frumento con la lenticchia. Abbiamo fatto un esperimento a livello veramente molto vasto, si parla di ettaro, dove praticamente insieme a Gilberto ci siamo posti qual era il punto da indagare maggiormente su questa pratica agricola. E quindi siamo concentrati sul fatto di trovare il miglior rapporto, la miglior dose di semina tra frumento e lenticchia, in modo che si massimizzasse la produzione delle coltivazioni e si rendesse efficace e massimizzasse anche il controllo delle infestanti. Lo abbiamo intervistato, questa è proprio la foto, quella che vedete, la foto dei campi sperimentali. Sono strisciate, strisciate lunghe più di 800 metri, no, di 80 metri, 80 metri, dove ogni strisciata abbiamo provato una combinazione diversa di frumento, non so, 25 chili di frumento con 100 chili di lenticchia e così via, una combinazione fattoriale. E utilizzando questo QR code, potete vedere un'intervista che abbiamo fatto poi a Gilberto dove lui poi vi può trovare dei dettagli maggiori rispetto a questa esperienza. Quindi da parte mia, scusate se mi sono stato un po' troppo lungo, ho terminato, ma lascio la parola a Gilberto che sicuramente sarà un piacere ascoltarlo. Grazie. Grazie a te. Bene, io ripartirei dai punti dove tu, Federico, hai detto cosa seminare, quando seminare e come seminare. Poi piano piano arriviamo anche al problema della vagliatura delle sementi, della separazione che forse è l'aspetto più complesso delle consociazioni. Se oggettivamente le consociazioni frumento, cereali e leguminose possiamo dire che ha solo vantaggi sotto ogni punto di vista, sia in termini di controllo degli infestanti, sia in termini di ottimizzazione dei raccolti. Sicuramente poi quando dobbiamo separarle lì si apre una nota dolente, si apre. Nella mia esperienza, voglio fare per chi ci ascolta una piccola precisazione geografica, cioè di dove siamo. Siamo nelle Marche Centrali, 20 chilometri dalla costa e 225 metri sul livello del mare. Questo in modo tale che poi quello che ascoltate lo potete contestualizzare nella vostra area geografica, perché io ho aggiustato il mio metodo di lavoro partendo dalla trebbiatura. Dopo la trebbiatura non faccio nessuna lavorazione fino a che non arriviamo al mese di ottobre, almeno al mese di ottobre. E vado a lavorare solo ed esclusivamente del terreno che è bene in tempera, quindi ci debbono essere state delle piogge abbastanza importanti. E a secondo di quanto il terreno è in tempera utilizzo o un ripuntatore leggero o un erpice a dischi. Se la terra è più umida, più bagnata, utilizzo un erpice a dischi. Se la terra è più asciutta, utilizzo un ripuntatore leggero. Utilizzo. Dalla trebbiatura fino alla metà di ottobre circa non faccio nessuna lavorazione. Questa scelta è scaturita proprio dallo scambio di informazioni che c'è stato con Federico, con Stefano Carlesi, eccetera, quando parlavamo proprio delle infestanti. Allora, in questo arco temporale innanzitutto tutti quelli che sono i residui del trebbiato, cioè tutto quello che cade dalla trebbia, siano essi semi di erbe spontanee, siano essi semi delle culture che stavano in campo, comunque rinascono e si sviluppano in un certo modo, in base a quanto è caldo, a quanto è umido, eccetera. C'hanno comunque uno sviluppo. E questo consente di mantenere il terreno sempre coperto, sempre con un apparato radicale attivo, quindi c'è un'attività biologica, diciamo, sul terreno. Ma mi colpì molto quando parlavamo appunto di infestanti, una risposta che mi diede Stefano Carlesi, dicendomi, dipende da quanta energia accumulano le erbe infestanti. E io ci ho riflettuto molto su questa storia, nel senso che se c'è un arco di tempo in cui la temperatura esterna, la temperatura stagionale, eccetera, favorisce lo sviluppo di determinate erbe, di determinata vegetazione, favorisce, perché c'è appunto un accumulo di energia, perché c'è una condizione favorevole, ma se alla fine di questo accumulo di energia io vado a stoppare il loro ciclo, anche le poliennali, per quando riprendono vigoria, ammesso che abbiano ancora in serbatoio delle energie di scorta, eccetera, eccetera, per quando riprendono la loro vigoria, le culture che io ho seminato, cioè quello che ho messo in campo, ha già comunque un vantaggio competitivo, se non altro in termini di altezza, per cui si andrà poi a verificare una sorta di proprio di svantaggio per gli infestanti. E se proprio devo dire che il problema delle erbe infestanti, che viene comunque, o erbe spontanee come le vogliamo chiamare, che viene comunque sollecitato da tutti e viene sempre preso in considerazione da tutti, per me personalmente non rappresenta più nessun tipo di difficoltà, ho dei campi pulitissimi, ho dei campi, perché la parte spontanea inizia a prendere forza quando le culture già hanno una situazione sul campo molto consistente, hanno coperto bene. Poi nella fase di semina, oltre alle culture che mi interessano, e qui siete stati utilissimi voi, Federico, che mi avete regalato dei semi, semino sempre del trifoglio, semino sempre della sulla, e quest'anno ho fatto un esperimento che poi ti saprò dire, l'ho fatto sul grano saragolla insieme al cece, ho due ettari che è una consociazione di grano saragolla, cece nero, orzo, e ci ho messo dieci chili di sorgo per ettaro, perché mi interessa avere anche in campo delle piante che quando si fa la trebbiatura mi lasciano cadere dei semi, mi lasciano cadere, che poi di fatto vanno a fare quello che di solito chiamiamo sovescio, chiamiamo cover crop, quindi è un aiuto, è una implementazione di quella componente vegetale che tiene il campo coperto fino a che non arrivi a fare le lavorazioni per la semina. Per quanto riguarda la semina, ho eliminato praticamente, vi do un piccolo dato statistico, quest'anno ho seminato, ho fatto tutti i lavori di preparazione e sono arrivato ad ultimare le semine con 35 litri di gasolio per ettaro, quindi immaginate cosa posso aver fatto. O i passaggi con il ripuntatore leggero o i passaggi con l'erpice a dischi, quando il terreno si è asciugato, li faccio seguire a un passaggio con un erpice a chiodi fissi, che serve per scuotere tutte quelle erbe spontanee o tutta quella vegetazione che è ancora delle zolle di terra attaccate e faccio uno o due passaggi a secondo di quanto mi interessa scuotere, pulire e con questo lavoro si ottiene anche una chiusura, nel senso che sotto rimane del terreno particolarmente umido, rimane. Dopodiché faccio la semina con una seminatrice e dietro ci sono due file di copriseme che comunque muove ancora e porta via ancora delle erbe che possono rimanere attaccate sulle zolle di terra eccetera e dopo la semina faccio un altro passaggio con un erpice a chiodi fissi. Questo mi permette di avere delle semine particolarmente superficiali, ho dei semi che stanno mediamente intorno ai cinque centimetri, sono interrati non più di cinque centimetri, con sotto un terreno particolarmente fresco, particolarmente. Poi se c'è una situazione che c'è probabilità di pioggia non faccio nessuna lavorazione, se non c'è probabilità di pioggia faccio una rullatura in modo da compattare un po' il terreno e farlo aderire meglio ai semi. questa è un po' la mia esperienza ecco da un punto di vista tecnico. Una cosa importante invece è quando seminare. Sempre la mia esperienza mi ha fatto scegliere diciamo di posticipare la semina, questa è stata un po' frutto dell'esperienza, un po' frutto anche dei racconti, nel senso che un vecchio mugnaio mi ha raccontato la sua esperienza, oramai è novantenne, vive ancora, e lui dice che ha fatto un'analisi che su dieci anni per sette volte i raccolti migliori ce li hanno quelli che seminano tardi. Poi come avrà fatto la sua statistica? Questo non lo so, però personalmente da quando ho iniziato a differire le semine, spostare in avanti le semine di circa 30 anche 45 giorni, quest'anno nei appezzamenti a nord ho finito di seminare al 20 febbraio, era esattamente una consociazione di frumento tenero con farro monococco e pisello proteico e adesso è già bellissimo, siamo in questo momento, siamo sull'accessimento, considerate che qui intorno a me ci sono dei campi che stanno già spiegando, che stanno, quindi immaginate questa differenza proprio di impostazioni. E seminando insieme con Federico, lo sa perché l'abbiamo utilizzata, questa seminatrice con doppia tramoggia, mescolando i legumi con i cereali, praticamente si ottiene un spostamento in avanti e quindi un accorciamento del ciclo del frumento che si semini a novembre, c'hai novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e qualche volta anche luglio, quindi sono nove mesi. Io lo accorcio mediamente di 45 giorni, cioè difficilmente inizio a seminare prima di Natale e di solito appena Natale inizio a seminare e finisco intorno al 20 febbraio, quindi ho accorciato mediamente di 45-50 giorni. Ma al tempo stesso si allunga il ciclo dei legumi di lo stesso 30-40 giorni, perché il legume vorrebbe essere seminato verso la fine di marzo, vorrebbe essere seminato. Invece in questo caso andiamo a seminare molto prima. Sul legume questo ha un grosso vantaggio perché va a germinare in una condizione di terreno molto più fresco, se non ci sono delle invernate particolarmente rigide, comunque si sviluppa abbastanza velocemente. L'unica attenzione, e questo lo sa Federico perché ne abbiamo patito, è che se semini la lenticchia devi essere certo che nelle due settimane successive alla semina non ci sia lo zero la notte perché in fase di germinazione le gelate notturne non sono amate dalla lenticchia, non sono. Come seminare? Personalmente semino solo ed esclusivamente a spaio, ho tolto tutto dalle seminatrici, ho tolto cannelli, dischi, falcioni eccetera, quindi il seme cade e oggettivamente si vede il campo seminato a spaio e il campo seminato a righe, si vede a vista d'occhio la differenza. Per quanto riguarda le leguminose a granella grande come i ceci, come le cicerchie, come i piselli, è una condizione diciamo oggettivamente valida, quella di avere uno spaio con una promiscuità delle sementi. Sulla lenticchia mi sto facendo delle idee sull'opportunità di modificare l'impostazione di semina perché la lenticchia è quella che risente di più della competitività e le stagioni non sono prevedibili quindi non possiamo sapere effettivamente come poi si comporterà perché la fretta della lenticchia di andare a seme qualche volta la fa rimanere particolarmente bassa anche se c'è una competitività con il grano. Mi sono fatto l'idea oramai che sarebbe meglio in mezzo al grano seminarla o a righe rade ma molto fitte sulla fila o addirittura trovare un sistema per fare, e ci sto studiando sopra, ci sto, per fare dei piccoli cespi per fare che fossero anche a qui in conce dove ogni volta che cadono i semi cade in un punto circa un cucchiaio di semi di lenticchia perché ho notato casualmente, tante volte la macchina si occlude qualche distributore eccetera e mi sono accorto che dove cadono più semi tutti quanti insieme, cadono e la lenticchia ha un altro comportamento cioè il cespo, quando si forma il cespo c'è una sorta di mutualità probabilmente e quindi c'è più vigoria e qui c'è ancora da lavorare. Adesso passerei subito alla nota dolente della separazione che probabilmente se abbiamo detto che le consociazioni hanno, e Federico ne ha fatta una disamina molto precisa è molto puntuale. Possiamo quindi dire che ci sono solo vantaggi che ci sono da un punto di vista ambientale da un punto di vista della biologia del terreno, da un punto di vista dell'ottimizzazione dei raccolti dal punto di vista della copertura del rischio culturale, nel senso che le stagioni sono imprevedibili io ho visto in alcuni appezzamenti di terreno a volte dove il grano faceva una difficoltà enorme i ceci erano bellissimi, quindi hai una compensazione che poi in termini economici ha il suo perché e se le leguminose, quelle con la granella più grossa, quindi i ceci, che siano bianchi, che siano neri le cicerchie o il pisello, sono abbastanza semplici da separare perché anche macchine molto vecchie, tipo io ho una vecchia Marot, una macchina che probabilmente avrà almeno 90 anni, sì ho fatto delle piccole modifiche, ma la macchina riesce a separare benissimo l'orzo, ho aggiustato dei trabatti, quindi si tolgono prima tutte le granelle grandi dei legumi e poi sotto la macchina separa acevolmente l'orzo, il frumento, facendo diverse scelte quindi puoi recuperarlo sia per seme che comunque poi per macina, per fare delle farine o per fare... per la lenticchia la situazione è più complessa ho interessato anche un paio di aziende importanti, ve le do per nove perché poi magari per qualcuno può rappresentare un'opportunità anche di contatto ho inviato dei campioni dei prodotti come sono stati trebbiati, come erano stati trebbiati da me e li ho mandati alle officine Baragioli di Vercelli, storiche specializzate sul riso chiaramente e loro propongono... poi l'aspetto economico dell'investimento è un'altra cosa nel senso che ognuno valuta se lo può fare, se non lo può fare, come va fatto, in quanti e in come le officine Baragioli propongono un sistema di trabatto combinato a dei cilindri alveolati perché il problema della lenticchia, e ci eravamo focalizzati sulla lenticchia il problema della lenticchia è che la pianta dà sempre, quasi sicuramente, dei calibri di semi buoni validi da un punto di vista commerciale, di diametro e di grandezza differente e lo spostamento di un millimetro nella grandezza del seme rende a volte inefficace il sistema di vagliatura nel senso che utilizzando un trabatto con delle cavette di un certo millimetro le cavette sono delle lamiere con i fori rettangolari si separa il prodotto in un certo modo e si separano delle lenticchie che hanno un certo diametro altre vanno a finire con il grano, quindi le devi riprendere in un passaggio successivo con dei cilindri alveolati che hanno comunque una calibratura e alla fine si arriva al risultato finale questa è la proposta di Baragioli, quindi una proposta solo e esclusivamente fatta di crivelli quindi trabatto a crivelli e di cilindri alveolati c'è un'altra proposta che a me piace di più e Federico lo sa perché comunque in qualche occasione gli ho mandato anche delle immagini per una macchina che viene comunque prodotta all'estero che è anche un po' difficile acquistare in Italia perché viene prodotta in Ucraina passa attraverso la Polonia, poi non c'è il bollino c'è, insomma è un po' complessa ma ho individuato nell'azienda Tecno Impianti di Padova il signor Antonio Facciuolo produce una macchina che possiamo definire gravimetrica o comunque aerodinamica nel senso che è una sorta di tunnel dove all'interno viene immesso un getto d'aria viene immesso e per effetto del peso specifico dei semi si crea un rapporto tra la potenza e il peso specifico dei semi e quindi i semi fanno all'interno di questo tunnel un certo tracetto e vanno a cadere su una determinata uscita loro hanno fatto uno studio molto dettagliato che è desumibile dal loro sito internet perché hanno fatto anche uno studio sulla germinabilità delle varie uscite questa è una cosa veramente interessante nel senso che ti dicono nella prima uscita nel caso del frumento per esempio la germinabilità è 98% nella seconda è 87% nella terza eccetera eccetera però anche loro hanno sottolineato la difficoltà di selezionare un prodotto troppo eterogeneo per cui propongono un sistema diverso che è un sistema combinato di trabatto a crivelli laddove viene inserito il trebbiato c'è una tarara di aspirazione che porta via tutta la frazione leggera quindi pula, polveri eccetera eccetera c'è un crivello che porta via determinati diametri di semi che porta via e da questo primo passaggio si ottiene una massa un po' più omogenea che viene immessa nel tunnel con la spinta dell'aria e con un passaggio, due passaggi a secondo di come è il prodotto si ottiene una separazione secondo me accettabile del prodotto questo sistema eviterebbe di ricorrere anche a macchine più complesse come possono essere le tavole densimetriche che sono macchinari particolarmente costosi non che questi non lo siano perché comunque un impiantino per quanto lo vuoi fare piccolo arrivare a spendere 30.000 euro non ci vuole niente non ci vuole perché poi un po' di trasporto, un po' di montaggio, un po' di cocle un po' eccetera però questa, la proposta dei tecnico impianti mi sembra quella più vicina a dare una risposta tecnica al risultato di un trebbiato ottenuto da una consociazione e questo è un po' diciamo cercando di fare una sintesi abbastanza stringata del tutto se poi preferirei avere delle domande piuttosto che continuare a raccontare ma non che non voglia raccontare nel senso che il grosso della mia esperienza diciamo l'ho trasmesso una cosa molto importante ma ne avevamo parlato prima è nella fase di semina di aggiungere assolutamente perché anche questa è una limitazione allo sviluppo di altre erbe spontanee e comunque ho visto che negli anni aggiungere altre essenze nella semina quest'anno per esempio ho preso una miscela di semi di un'azienda che si chiama Sement de France che si chiama che si chiama Pronettar e c'è dentro del papavero, del fiordaliso tutta una serie di trifogli eccetera perché comunque va nella direzione di creare un habitat per una maggiore biodiversità entomologica e Federico prima l'ha fatto questo passaggio e mi ricordo che quando Federico veniva anche Simone Marini nei nostri campi di prova un anno voi raccontaste che avevate campionato degli antagonisti del Tonchio del Tonchio della lenticchia che avevate campionato quindi insieme al Tonchio c'era anche l'antagonista c'era anche l'antagonista quindi immettere nella semina delle essenze che favoriscono una maggiore presenza di insetti quindi una biodiversità entomologica oltre a coprire in maniera ottimale il terreno quindi occupa uno spazio oltre a modificare la chimica del terreno che magari diventa poi sfavorevole per altre specie per altre erbe meno interessanti ammesso che noi abbiamo la capacità di capire per la natura quali sono le erbe interessanti o meno però sicuramente seminare delle essenze che hanno diciamo un vantaggio anche per la biodiversità entomologica è una piccola accortezza in tutte queste visto che poi qui stiamo parlando con IAB Friuli Venezia Giulia quindi un contesto geografico completamente diverso al nostro un anno in una sperimentazione bellissima di cui ho un ricordo bellissimo ho fatto una consociazione ve la racconto perché poi qualcuno che ha voglia la può sperimentare ho fatto una consociazione il mese di marzo tra cece miglio e grano saraceno il grano saraceno era veramente uno spettacolo era bellissimo poi separarlo è stato un problema grosso siamo dovuti andare alla Cobi ad Ancona quelli che fanno il malto per la birra hanno una macchina abbastanza complessa insomma quindi lì si aprono altre problematiche però a livello di consociazione non c'è un limite alla fantasia di quello che si può fare grazie Gilberto grazie Federico allora vi intrometro per ricordare che se ci sono delle domande da parte di Massa si può fare in chat e dopo ne aggiungerò anche io visto che qui in Friuli è da un paio d'anni qualcosa di più che stiamo sperimentando con l'associazione di concesso e a fantasia del resto e volevo chiedervi alcune cose a riguardo una domanda che fanno in chat è che se alla fine Gilberto riesce ad avere un prodotto che si può commercializzare ci hai presentato dei miscugli io Stefano scusa se ti interrompo però anche io non ti sento benissimo mi sentite adesso meglio allora diciamo che questo metodo di lavoro è adatto solo ed esclusivamente per delle aziende che fanno filiera chiusa e quindi commercializzano tutto quello che raccolgono e lo commercializzano direttamente nel senso che se hai delle superfici fai delle coltivazioni che poi devi conferire al consorzio o al commerciante di turno eccetera eccetera non è questo il metodo che ti può essere utile poi in base al risultato della della coltivazione c'è un po' da aggiustare il tiro strada facendo per capire che cosa chiede il mercato il tuo mercato di riferimento che cosa vuole in termini alimentari e quindi uno si indirizza a seminare delle cose che può poi a cui può dare un valore in termini di commercializzazione diretta però ti dico fatta eccezione per la lenticchia per il resto veramente con poca attrezzatura si riesce a diventare indipendenti a diventare non ci vuole una grande una grande cosa è chiaro io ho un'azienda di 10 ettari per cui cioè non è che parliamo di di chissà cioè noi raccogliamo circa 350 400 quintali di granelle all'anno tra frumento ceci lenticchie cicerchi eccetera quindi lo commercializziamo tutto lo commercializziamo c'è un po' da lavorarci c'è un po' da ogni tanto si fa qualche piccolo investimento abbiamo desistito dal fare l'investimento di un impiantino di pulizia e ripeto eravamo orientati sulla proposta di tecno impianti di ospedaletto di Padova abbiamo desistito dal farlo ma semplicemente perché un tipo di investimento del genere ci avrebbe spinto inevitabilmente verso il conto terzi altrimenti hai bisogno di troppo tempo per rientrare cioè se investi 50.000 euro per un impiantino e poi non fai 2.000 3.000 quintali di conto terzi che ti fa rientrare velocemente dell'investimento hai voglia poi per il resto siamo indipendenti su tutto siamo indipendenti per macinare siamo indipendenti per confezionare quindi non abbiamo siamo indipendenti per decorticare quindi non abbiamo grosse Giberto se poi mi permetti di aggiungere una cosa hai toccato un punto ecco no ho spento il telefono che mi stava suonando scusate dimmi hai toccato un punto secondo me estremamente importante con cui io poi parlavo anche con Stefano quando qualche ora fa per fare le prove tecniche di collegamento il fatto che la cosa si dovrebbe andare verso un modello francese cioè di cluster di zone in cui ci sono agricoltori che praticano queste cose e tutti insieme in qualche modo provvedere all'acquisto di questi macchinari che le singole aziende le singole aziende biologiche avrebbero difficoltà nell'acquistare quindi di fare insomma di avere un approccio di questo tipo potrebbe essere potrebbe essere potrebbe aiutare sicuramente la diffusione di queste pratiche agronomiche che in biologico chiaramente non potendo utilizzare erbicidi non potendo utilizzare assolutamente tutti quanti gli input gli input esterni portano sicuramente dei vantaggi l'immagine che vedete comunque in questa slide spero che ve la vediate è comunque un'immagine che avevamo preso da Gilberto stesso quindi il risultato lui mi pare che in questo caso abbia fatto parecchi passaggi per la pulizia o non mi ricordo quanti passaggi per la pulizia all'enticchia comunque il risultato che sostiene è questo lo facciamo con una ballarini con due tamburi alveolati che purtroppo adesso ce l'hanno rotta e non me la faranno fare comunque grano è praticamente pulito il problema risiede nel piccolo grano nel grano più piccolo più stiminzito insomma che rimane insieme a l'enticchia se guardate bene l'immagine si vede che c'è un forse 3% di grano che rimane a l'enticchia ma perché nella l'enticchia ci possono essere delle vecce ci può essere il latirus ci può essere quindi però con con l'impianto di tecnopianti quello con con l'aria loro lo chiamano gravimetrico io preferisco chiamarlo aerodinamico perché rende di più l'idea perché anche le tavole densimetriche qualcuno le chiama gravimetriche purtroppo la lenticchia è l'unica che ha bisogno di una attrevo più sofisticato e la la proposta di tecnopianti secondo me è quella che è più vicina a risolvere il problema anche perché magari se devi fare un passaggio due passaggi questo non è un problema perché la macchina ha un settaggio anche di turbolenza puoi gestire la turbolenza all'interno del tunnel e credo che possa loro mi hanno fatto delle prove mi hanno mandato delle foto e oggettivamente devo dire che è quella la soluzione cioè con quello che costa una tavola densimetrica ci fai tutto l'impianto ci fai esatto però io qui voglio fare un po' come dire di sindacalismo voglio fare non conosco la realtà del friuli Venezia Giulia conosco la nostra realtà qui nelle marche le aziende ce ne sono tantissime ma la possibilità che delle aziende si mettono insieme per fare qualche cosa a livello consortile è pressoché impossibile se non c'è un soggetto di sintesi cioè ci vuole un soggetto di sintesi che prende in mano la situazione crea il progetto coinvolge i vari attori eccetera eccetera almeno per noi non può arrivare dalle aziende la possibilità di arrivare a compimento per un progetto del genere poi la vostra zona non la conosco con un'idea insomma beh qui in friuli penso a livello di mettersi assieme siamo un po' nella vostra situazione quello che però per noi è importante in questo momento è anche capire e ce l'avete mostrato che la cosa è possibile nel senso è possibile fare la consociazione è possibile separare le granelle che vengono raccolte assieme e ci sono le soluzioni tecniche per farlo dopo speriamo di riuscire anche a trovare una formula per mettere insieme più aziende agricole che possano arrivare a consociare raccogliere e pulire e vendere il loro prodotto io adesso vi do anche un altro dato che da un punto di vista agronomico potrebbe anche diciamo essere un po' stridente essere un po' perché fa parte dei canoni dell'agronomia e fa parte anche dei canoni dell'impostazione burocratica PAC PAP eccetera eccetera sono non mi ricordo bene se sono 4 anni o 5 anni che non faccio più le rotazioni praticamente da quando faccio le consociazioni conosco abbastanza bene i miei terreni so qual è il tipo di umidità come l'esposizione eccetera e cerco di far girare il legume di far girare poi laddove ho qualche difficoltà perché il terreno non risponde perché noi siamo in una zona di terre molto forti in alcuni punti siamo proprio su delle argille siamo tant'è vero che ho i semi i primi semi di Sulla che mi portò Federico un anno non mi ricordo sono 3 anni fa 4 anni fa eccetera oramai hanno colonizzato delle fasce di terra argillosa e sono presenti lì e resistono anche a delle lavorazioni superficiali resistono e quindi in certi punti cerchi di lavorare di lavorare un po' con per esempio ho un pezzo di terra esposta a nord ma non risponde tanto bene da un punto di vista di coltivazione e sono già il secondo anno che faccio una consociazione con di cereali minori con il favino quest'anno ho fatto una mescola di favino avena rossa e segale e effettivamente sta rispondendo ha risposto poco con il frumento ma sta rispondendo con i cereali minori e però ci faccio lavorare il favino cioè poi ognuno deve un attimo sperimentare un po' il suo deve capire esatto non è che stiamo parlando di ringrano perché insomma come sappiamo la rotazione ci deve essere deve essere ampia però a favore di quello che dice Gilbert abbiamo fatto uno studio su quello che succede dal punto di vista dei microorganismi nel terreno in caso di grano coltivato da solo e in caso di grano coltivato con la lenticchia il livello di biodiversità di microorganismi e di funghi in un sistema di consociazione non è assolutamente paragonabile con quello di monocoltura del grano quindi fare un ringrano senza l'utilizzo di leguminosi in rotazione e oppure fare utilizzare sempre il grano ma facendo girare le guminose in consociazione non è la stessa cosa non dobbiamo pensare che sia una limitazione e da un certo punto di vista un approccio per ottimizzare al meglio le risorse che si hanno ma dal punto di vista microbiologico la biodiversità non è la stessa cosa io posso approfittare un attimo per salutare due eroi perché ho visto sotto dei commenti delle persone che adoro per il loro impegno per la loro forza e li abbraccio e li saluto caldamente si tratta di Sara Passerini le Padolecchie Val di Chiana e Alfredo Fasola in Umbria ciao vi abbraccio fortemente bene c'era il signor Fasola mi pare chiederei a Serena l'azienda agricola Torre Colombaia in Umbria e Sara Passerini sta in Val di Chiana nel Podere le Padolecchie è gente che fa cose bellissime con grande coraggio eh sì c'è una domanda di Sara non so se la avete sì sì penso di sì che sia quella nel caso della consociazione tra Cece Emilio e Saraceno come si si è riusciti o se si può coniugare i diversi tempi di i diversi cicli vegetativi e tempi di maturazione che possono essere diversi io prendo come riferimento la Pasqua qui c'è sempre un po' di detto popolare che dice che o alta o bassa l'invernata fino a Pasqua quest'anno per esempio avessi dovuto fare questo tipo di di consociazione sarei andato a seminare verso la fine di aprile sarei andato poi magari patisce un po' eh il Cece a secondo di com'è la situazione eccetera ma eh allora non ci sono problemi in termini di raccolta e di maturazione perché sia il il miglio e sia il grano Saraceno sono abbastanza resistenti anche quando sono maturi quindi non c'è un agro il grano Saraceno qualche cosina perde ma poca roba quindi poi dopo ecco bisogna bisogna vedere all'attoprata il tipo di terreno che uno ha il tipo di meccanizzazione che c'ha insomma io l'ho fatto in un punto piuttosto fresco l'ho fatto seminando verso la fine di aprile mi sembra in un punto un fondo valle perché il grano Saraceno se incontra una situazione di siccità c'è caso che ti fiorisce a 15 cm da terra ha una fretta di andare a seme che è impressionante ha una fretta quindi bisogna tenere conto un po' anche delle caratteristiche delle piante quelle che sono sì però bisogna fare le prove bisogna provare una delle cose che avevamo visto qui a Friuli da quando ho visto che ci sono alcune macchine a disposizione per lo sfalcio e l'andannatura e se vanno magari come il Saraceno che continua a una maturazione scalare o c'è questa possibilità in estate quindi di sfalciare andannare lasciare in campo se il tempo lo permette per secare il tutto e dopo trebbiare solo se avete dei trebbiatori che hanno delle barre pick up altrimenti fate un disastro cioè se c'è un trebbiatore che ha una barra pick up le barre pick up lavorano dal contrario prendono da sotto e tirano verso l'alto mentre invece l'aspo della trebbia tradizionale ha una rotazione in avanzata che abbassa no però taglia quello che è ancora in piedi che è ancora in essere come cultura mentre invece se tu hai sfalciato allora l'andanatura è sempre una pratica che ti fa perdere prodotto che ti fa perdere bisogna vedere qual è la condizione se c'è una condizione di sole se non c'è se riesce a seccare quante erbe infestanti c'hai in mezzo alla cultura però la condizione di avere una trebbia con una barra pick up è fondamentale il sistema pick up è lo stesso che hanno le presse quelle per fare il fieno che fanno nel senso hanno questi aghi che lavorano al contrario e tirano su e portano dentro portano prendono dal basso e portano verso l'alto quindi è sempre una questione di meccanizzazione io personalmente prima di iniziare le consociazioni facevo lo sfalcio facevo la lenticchia la sfalciavo con una vecchia moto falciatrice con una bcs e poi facevamo una sorta di andanatura ma il prodotto ne perdi tantissimo ne perdi la possibilità di trebbiare il prodotto in piedi in consociazione è sicuramente una condizione ottimale è meglio lavorare sulla soluzione di come separarlo che non di come trebbiarlo certo se il signor alfredo dovrebbe avere il microfono attivato quindi se voleva fare una domanda lo pregherei di di approfittarne e intanto una domanda su c'è una domanda sulle produzioni per ettaro diciamo che in consociazione tra legume e cereale mediamente facciamo 30 quintali facciamo poi qualche volta c'è più grano qualche volta c'è più ecco il cece ti dà un po' di più rispetto la lenticchia è la la cultura più critica in assoluto perché su 10 quintali di lenticchia che raccogli di prodotto commercializzabile se va bene ce ne stanno 60 perché c'è una scalarità di fioritura che è maggiore rispetto anche ad altre leguminose è maggiore e gli ultimi semi sono di solito sono vacui non sono si si vengono scartati da un impianto aerodinamico ecco perché dicevo che questo sistema di lavoro è adatto solo ed esclusivamente per aziende a filiera chiusa che trattengono tutto il valore aggiunto del prodotto noi il grano lo maciniamo vendiamo la farina non vendiamo il grano è chiaro quindi che il valore aggiunto del prodotto cambia i ceci li vendiamo come ceci già da scaffale o come farina o in pianura volevo aggiungere che nel contesto produttivo di Gilberto collinare quelle sono le produzioni in pianura il frumento siamo sulle 4 tonnellate e mezzo in linea con il livello di produzione locale per la pianura pisana e la lenticchia arriviamo a 0,8 tonnellate senza differenza potenziale tra frumento in consociato e lenticchia da sola però la lenticchia da sola è allettata a un sacco di infestanti quindi dal punto di vista pratico la raccolta di lenticchia sicuramente sarebbe più difficile rispetto a quella consociata c'è anche un'altra piccola precisazione da fare perché poi ecco le cose da raccontare sarebbero tante noi non facciamo nessuna concimazione non facciamo né organico né ammesso né non ammesso assolutamente niente perché se facessimo un investimento di 200-300 euro per ettaro di concimazione sicuramente avremmo un aumento della produttività però abbiamo fatto quattro conti che va bene così sì probabilmente anche meno infestanti negli anni credo ma questa è più una scelta ideologica è una scelta nel senso che poi ognuno a casa sua i conti li fa come come meglio crede insomma cioè nel senso non è un dogma questo noi non facciamo concimazioni sempre con produzione di tutto rispetto comunque volevo chiederti o chiedere a tutti e due quest'anno sempre parlando dei friuli in diversi posti dove è stato seminato il cece abbiamo poca esperienza ma ci sembra insomma che non abbia tutta questa voglia di emergere per cui eravamo in dubbio se aver sbagliato epoca di semina se aver sbagliato profondità se aver così allora il cece vuole pochissima adesso vi racconto gli aneddoti della cultura popolare mia madre dice che il cece vuole sentire il suono delle campane vuole sentire quindi deve avere sopra due centimetri tre centimetri non di più però secondo me il problema del cece per voi sono le temperature non so che storia ha il territorio in termini di coltivazione dei ceci perché i ceci vogliono dei terreni calcarei e vogliono temperature abbastanza vuole l'asciutto siccità noi i terreni calcarei ce li abbiamo l'asciutto quando abbiamo seminato non sempre magari sono terreni a volte freddi e umidi se i terreni sono molto freddi e umidi c'è caso che il cece marcisce prima di nascere e infatti abbiamo sì ci siamo lo stesso difetto lo stesso difetto ce li fa vino sì confermo che anche secondo la nostra esperienza lo dicono un po' tutti il cece è difficile asseminare non è una cultura facile perché se c'è troppa troppa siccità non germina germina in modo superscalare la germinabilità o sta fermo la germinabilità ne risente più tempo si protrae la siccità con l'umidità chiaramente marcisce e ora stiamo studiando se è meglio una semina del cece autunnale o primaverile perché il freddo non dovrebbe essere un grosso problema per il cece o per lo meglio voto per autunnale esatto anche noi abbiamo l'ipotesi di partenza che è forse anticipare la semina del cece addirittura in autunno potrebbe risolvere in parte il problema dell'umidità perché arriviamo da un terreno più asciutto rispetto a una semina primaverile il freddo diciamo dimmi Gil risolvi anche il problema dell'oilio il cece seminato a marzo aprile prende facilmente l'oilio seminato in autunno non si ammala neanche se il problema sono gli infestanti perché chiaramente allora gli interventi meccanici sono più difficili perché chiaramente il terreno non è magari adatto per il trattamento meccanico degli infestanti mi riferisco alla sarchiatura noi stiamo provando anche in questo caso con la consociazione con i cereali a quel punto il problema della separazione granelle è superato perché chiaramente hanno una differenza talmente evidente che separarlo è molto più facile quindi vogliamo superare il rischio di infestanti della semina autunnale con la consociazione e sicuramente prende più acqua perché se continua a fare perlomeno in Toscana come ha fatto negli ultimi 3-4 anni appunto si becca il cece si è seminato in questo momento perché gli agricoltori stanno seminando ora forse un po' di settimane fa si becca se va bene una pioggia forse due per completare tutto il ciclo ma si può fare anche con un cereale a perdere si può fare nel senso fai una semina con l'orzo fai un cece con l'orzo alzi un po' il dosaggio di semina dei ceci abbassi un po' quello dell'orzo perché ti serve dell'orzo semplicemente per drenare acqua per asciugare un po' per asciugare e poi non ti interessa se ce l'hai l'orzo ce l'hai se non ce l'hai non fa niente io lo definisco semina con il cereale a perdere io qualche volta l'ho fatta però nel frattempo c'è il controllo degli infestanti l'orzo non è molto competitivo quindi ti puoi un po' avvantaggiare sull'identità ecco una cosa che non abbiamo toccato è sull'identità di semina io ho alzato in maniera significativa ho alzato le dosi di semina diciamo che sto mettendo 400-450 kg per ettaro laddove faccio delle semine se c'è del frumento se c'è del farro in mezzo quest'anno ho mescolato anche il farro con il frumento ho mescolato se c'è del cece perché ho abbandonato anche un po' l'idea dell'accessimento sapete che c'è un po' questa sorta di caccia dell'accessimento per cui qualcuno dice che seminando un po' anticipatamente con dosaggi di semina più bassi si ha un maggiore accestimento qui sempre la saggezza popolare dice che per fare la guerra ci vogliono i soldati però ecco sono esperienze ognuno deve provare nel suo quindi scusa dicevi per la consociazione ritornando al cece quanti chili per per ettaro circa secondo me i ceci vanno seminati a 200 kg vanno seminati 200 assolutamente e poi ci metti un altro cereale che ti interessa che sia a perdere o che sia in questo caso se hai un dosaggio abbastanza elevato di ceci non puoi metterci un cereale che diventa troppo che crea troppa chiusura nel campo quindi o metti questi cereali minori come può essere il farro monococco come può essere la segale o ci metti un orzo tipo tipo non so un orzo un orzo nudo qualcosa che però sono diciamo meno creano meno chiusura creano perché c'è anche bisogno di un po' d'aria c'è bisogno del passaggio ma tutto va contestualizzato nella propria zona cioè bisogna capire i venti come soffiano come non soffiano quanto è areggiato l'esposizione c'è un minimo di conoscenza delle necessità fenologiche mi sembra che Federico abbia usato prima questo termine delle culture bisogna averla insomma sì è difficile dare una dose di semina che vada bene un po' per tutti ogni azienda va contestualizzata 200 chili per Gilberto è la normalità a me sembra una follia ma chiaramente ogni zona me ne sono accorto anche no parlando anche in altri paesi ad esempio la semina del frumento a 18 centimetri è più che ragionevole qua in Toscana se si propone una semina del frumento a 18 è veramente è veramente fuori fuori discussione vanno piuttosto sui 9 10 11 cioè ogni zona veramente insomma le soluzioni non si possono va valutato anche secondo la mia esperienza io sono stato costretto ad alzare un po' i dosaggi di semina anche per via dei piccioni dei torraioli abbiamo degli stormi di torraioli che fanno veramente delle cenette fantastiche fanno appena il cece germina che è morbido e c'ha il germe e se ne fanno delle mangiate lì ne devi tenere conto insomma ci mettono niente a mangiarti 50 kg di cilicino un ettaro sì sì è il primo anno che abbiamo provato insomma abbiamo avuto degli apprezzamenti puliti dai colombi insomma qui quelli che fanno l'altoleico il girasole a volte lo semiano due volte se non riescono a trovare un rimedio per anche qui due volte spesso sì i piccioni sono cioè abbiamo decantato tutte le possibilità migliori però ci sono anche le avversità da noi ci sono anche i cinghiali quindi ecco si tiene conto di tutto un popolo che vuole mangiare ma questo è un concetto biblico e quindi bisogna tenere conto anche di quello beh se si accompentano di una parte lasciamo anche loro insomma quando esagerano dopo diventa più problema e ci sono due due domande una che riguarda la dose sempre del cece alla fine alla semina o alla raccolta insomma quanti semi a metro quadro di cece forse Federico o quante piante alla raccolta possono essere quelle considerate giuste se c'è un giusto allora la sperimentazione sul cece è partita quest'anno quindi ci siamo basati sull'esperienza di altri ricercatori che hanno già studiato ci siamo basati sulle 40 piante a metro quadro 35 e 40 piante a metro quadro alcune arrivano a 50 piante al metro quadro credo che molto dipenda anche dall'epoca di semina se è una semina più autunnale rispetto a primaverile dall'interfila quindi se sono sarchiate oppure no comunque il range diciamo dovrebbe variare dalle 30 alle 50 piante a metro quadro la dose di semina cambia a seconda del peso del cece ci sono ceci molto piccoli tipo le varietà desi ceci molto grossi tipo alcuni spagnoli e quindi chiaramente cambierà direi dai 30 ai 50 a seconda di vari fattori ok noi per esempio noi che abbiamo per esempio delle colline abbastanza aspre con delle pendenze importanti nelle seminatrici meccaniche classiche tipo Ausonia tipo la Rocca Ima eccetera eccetera quindi quelle con il distributore azionato dalla ruota azionato c'è una differenza di caduta tra quando fai il passaggio in discesa e quando fai il passaggio in salita e si vede chiaramente quindi anche quello è un elemento che devi valutare cioè sono tante un conto è seminare in pianura un conto è seminare in collina cioè sono tante le variabili certo e consociazioni e stress termici in fioritura per le leguminose tipo lenticchia si riesce a valutare l'effetto l'avevamo accennato prima nel senso che la lenticchia in fase di germinazione se c'è se siamo sotto lo zero ah sì dentro c'è Alfredo che vuole parlare non so adesso non più sembra stress termici perlomeno in pianura no andranno fatti conti sicuramente in futuro per queste tematiche dell'acqua è sempre un aspetto molto dibattuto la consociazione implica un uso maggiore di acqua rispetto che è una una coltivazione diciamo di monocoltura cioè nel senso dove si utilizza una sola cultura questo andrà visto il bilancio non è così scontato bisogna valutare anche la temperatura del terreno se si abbassa la temperatura forse l'evaporazione diminuisce aumenta sicuramente l'evapotraspirazione delle piante questo è sicuramente un punto in cui vorremmo studiare di più anche perché con l'emergenza idrica che si prospetta per i prossimi anni andrà capito sicuramente varietà più precoci mi riferisco soprattutto alla lenticchia quindi una selezione genetica che prediliga in qualche modo legumi a ciclo più breve sono da prediligere sicuramente e poi semine anticipati secondo il mio punto di vista poi tutte cose che andranno in qualche modo testate con degli studi specifici ok prima Federico se ti ricordi quando ho parlato della mia esperienza di semina i passaggi con l'erpice a chiodi fissi prima della semina uno due e un altro anche dopo la semina hanno lo scopo principale di avere uno strato di 8-10 cm di terra soffice ma asciutta dove comunque il seme trova un alloggio ideale ma subito sotto perché tu hai fatto una lavorazione superficiale subito sotto c'è la terra in tempera quindi quando la pianta inizierà quando il seme inizierà a radicare inizierà avrà sicuramente non c'è i problemi di possibilità di marcescenza perché comunque lo hai seminato in terreno asciutto e anche se piove comunque non c'è si accosta il terreno ma quei 10 cm di terra superficiale siccome sono molto soffici si asciugano anche velocemente si asciugano però sotto trova subito un'umidità di risalita che è importante io ho trovato in questa pratica un vantaggio notevole ho trovato ma questo ho montato anche un erpige a chiodi fissi sotto alla seminatrice ma questo ne parlavamo anche con voi quando facevamo le preparazioni delle semine è venuto fuori dalle cose che ci raccontavamo all'epoca è venuto fuori oltre a tutto il vantaggio che hai perché asporti una quantità di erbe spontanee che è notevole perché comunque asciugando quel primo strato dove c'è un apparato radicale che già è stato disturbato lì sopravvive quasi niente e i campi sono pulitissimi sono e il cece comunque ce la fa anche con messo sul relativamente asciutto riesce a invibirsi e assorbire l'umidità che gli serve come per partire a terminare lì bisogna guardare le previsioni del tempo se c'è pioggia breve lasci stare se non c'è pioggia breve devi rullare perché comunque deve avere la terra un po' più vicina in modo che prende dell'umidità di risalita e quindi si imbibisce e germina comunque puntate a farlo nascere insomma senza possibilmente prendere la pioggia o aspettare che piova perché possa partire ma questo è difficile da fare questo tipo di previsione comunque il cece ci puoi impiegare io ho avuto semine di ceci che sono nati anche dopo un mese bisogna vedere le condizioni perché il cece per nascere vuole anche delle temperature della notte che non siano troppo basse che non siano tipo se la notte comincia a fare 8-10 gradi e il giorno sali a 15 gradi allora accorcia parecchio altrimenti se ne sta lì in quiescenza buono buono se ne sta sì e e E...